segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te era quello poi come dice cerno anche il parlamento ormai ha disintermediato la propria comunicazione per cui tutti i parlamentari ma lo fanno tutti ricordo gli stivali esuma oro pieni sporchi di fango che poi ha sostituito con quelli di prada della moglie il problema è di comunicazione detto questo sono d'accordo anche quello dice cerno rispetto al 41 bis cioè è assurdo che ci sia una contiguità tra lui l'ultima e unica frangia eversiva che è quella anarchica che non vota e la matita alla insurrezione anche armata perché questo dice cospita andatevi a leggere i suoi scritti e che come dice cerno vuole diventare un martire fermo restando che uno stato forte non si ferma davanti al modulo che lui ha firmato ma applica il tso per cui anche qualora ci dovesse essere necessità speriamo di no come giustamente dice nordio io mi riconosco in pieno nella sua nella sua lettura sintetica tra garanzie dell'essere umano e garanzie della fermezza dello stato sul 41 bis uno stato forte applica il tso e cura e nutre chimica e alimenta quindi andrebbe nutrito contro la sua volontà questa è la sua idea allora scusi un attimo mollicone devo sentire tornare da mollè che mi aveva chiesto la parola e l'abbiamo tolta e devo sentire un attimo un attimo